bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi puntata interessantissima perché tre quarti d'ora fa una mezz'oretta fa è uscita la patch 1.9 di fort night hanno fatto veramente un'introduzione di roba mastodontica ancora tantissimi miglioramenti e vorrei parlarne con voi molto velocemente per elencarvi tutte le modifiche che sono state fatte al nostro fort night sia nella battaglia reale che è questo video sia nella sezione salva il mondo che sarà nel prossimo video subito ragazzi miglioramenti al gioco lo abbiamo già detto miglioramenti ulteriori alla sensibilità del controller e alle prestazioni generali sia della modalità salva il mondo che della modalità battle royale ma ragazzi una delle cose più sugose ve la dico subito hanno introdotto 4 nuove armi al momento non ancora disponibili però nella pvp ma solamente nella campagna hanno detto gli sviluppatori che vogliono vedere come vanno prima di inserirli a tutti quelli che hanno il gioco free i fucili si chiamano fucile pesante semi automatico che ha una rarità non comune destriero che è una rarità rara stallone che è epico e a ragazzi una nuova leggendaria che si chiama panico irrefrenabile quindi andremo a vedere se questi fucili nuovi faranno veramente la differenza ad introdurre il nuovo arsenale di battle royale tra l'altro ragazzi modifiche anche meravigliose alla trappola di lancio che si chiama in realtà piattaforma di lancio adesso ragazzi quando noi piazziamo la piattaforma di lancio avremo la possibilità attenzione di aprire nuovamente il deltaplano quindi ci sono un sacco di idee che si possono creare costruendo ad esempio verso l'alto piazzando sopra una base la trappola noi potremo eventualmente paradossalmente rifare tutta la mappa con il deltaplano ovviamente ragazzi la trappola può essere distrutta come una qualsiasi trappola e non può essere raccolta una volta che è stata piazzata andiamo quindi nella battaglia reale ragazzi dove hanno aumentato la sensibilità del mirino quindi molto meglio adesso e regolate anche le impostazioni di sensibilità del controller andrete a vederle nella sezione opzioni inserite anche la nuova opzione ripristina i predefiniti nel menu della partita ma ragazzi altra cosa fighissima da adesso da oggi sparare saltare e ricaricare non annulleranno più la mira quindi la modalità puntamento quindi questo succedeva fino ad adesso adesso saremo molto più comodi quando ci muoveremo e staremo mirando il bersaglio andiamo invece proprio nel gioco in sé ragazzi hanno ridotto la velocità di movimento del 20 per cento quando usiamo uno strumento di raccolta hanno dato la possibilità di costruire in molte aree erbose dove prima invece era impossibile farlo andremo a scoprirle insieme in questi giorni i giocatori adesso possono costruire all'interno degli specchi d'acqua poco profondi ovviamente come ad esempio il lago del bottino quindi ragazzi fantastico costruire le palafitte direttamente sull'acqua i consumabili invece adesso si riempiono al massimo quando si raccolgono le pile delle bende dello stesso tipo quindi figata troviamo delle bende e delle bende noi le prendiamo e track bende al massimo per dire non si può più raccogliere automaticamente le risorse quando invece abbiamo già raggiunto le 999 unità dello stesso tipo ci spostiamo invece ragazzi sulle prestazioni perché ancora gli sviluppatori ci dimostrano che vogliono spingere fortnite anche sui computer meno potenti hanno migliorato i tempi di caricamento hanno migliorato il frame rate generale e hanno di nuovo dato un'occhiata al rendering delle ombre come già vi avevo parlato nello scorso video della patch 1.8.2 rendendole quindi più morbide a livello di risorse usate dal computer hanno eliminato i picchi di lag che venivano causati dai rallentamenti dei server e hanno anche ridotto i rallentamenti durante il gioco quando venivano precaricate delle risorse aggiuntive nell'interfaccia utente ragazzi vediamo che lo slot di oggetti è stato corretto e quindi adesso viene evidenziato quando si sposta tra una pila e un'altra pila di oggetti nella pagina delle classifiche è stato fatta una modifica in modo che il conta il conto alla rovescia adesso viene visualizzato correttamente e tra l'altro ragazzi altra modifica non è più possibile annullare il match se si sta provando a chiudere la finestra delle notizie ultima cosa l'icona di reanimazione adesso non si colora più di rosso quando un altro compagno entra nella condizione di atterramento non mortale quindi migliorie a livello grafico per questo punto di vista nel mondo invece ragazzi nell'area di gioco gli alberi sono stati animati adesso sulla playstation 4 e sulla xbox one sono state anche aggiunte delle scale nel tunnel quello che c'è a tomato town quello che porta in cima alla collina hanno anche scambiato di posizione alcune capanne e altre invece le hanno spostate in punti diversi della mappa hanno modificato anche i dirupi vicino ai ponti sul fiume rischioso e per ultimo ragazzi vogliono praticamente fare queste modifiche per spingere i ragazzi i giocatori a usare di più i ponti perché sembrerebbe che non siano aree di gioco adesso ancora frequentate hanno fatto anche delle correzioni per chiudere il video di alcuni bug ragazzi non si può più distruggere le barche che ci sono nel lago del bottino costruendo sopra delle fortezze hanno risolto un sacco di problemi di load e hanno anche corretto alcune imprecisioni grafiche che si mostravano a livello del terreno alcuni oggetti che prima erano indistruttibili adesso invece sono diventati distruttibili e un certo numero di oggetti adesso hanno l'effetto della collisione corretto anche il bug audio che invece faceva sentire dei rumori strani mentre si camminava rumori più che altro di foglie e cespugli che si muovevano beh ragazzi questi sono tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda il pvp di fortnite io vi ricordo di lasciare un bel like per questo video update se vi è piaciuto voglio che me lo scrivete qua sotto lasciate un sacco di like e mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto noi ci vediamo presto ciao 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 ciao